Buonasera a tutti, buon inizio settimana e bentornati al TG di AC Milan Inside. Dopo la partita di Serie A contro il Venezia, vinta 4-0, adesso è tempo di Champions. Infatti domani il nostro Milan sfiderà il Liverpool al 21 a San Siro. Stamani infatti l'intera squadra si è allenata a Milanello. Per quanto riguarda la probabile formazione c'è il ballottaggio tra Calabria e Emerson Royale, mentre invece Morata partirà dal primo minuto. Restando in tema difesa vedremo Tomahori, Teo Hernandez e Pavlovich. Non vedremo Luka Jovic in quanto è stato escluso dalla lista UEFA. Parlando della questione infortunati, oggi Ben Nasser è stato operato al polpaccio e pare che resterà out per 4 mesi. Nonostante questa lunga assenza, però il Milan ha deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati per prendere un altro centrocampista. Si punterà però a due talenti del Milan futuro, ovvero Voss e Zeroli. Per altre novità non vi resta altro che seguirci anche nel TG di domani, perché per oggi queste sono tutte quante le notizie. Io come al solito vi invito a venire a seguire su tutti quanti i nostri social targati AC Milan Inside.